E' in programma sabato 8 febbraio alle ore 17 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli il convegno dal titolo L'Affido Familiare Servizio alla Vita. E' organizzato dalla Diocesi di Vallo della Lucania, Ufficio Pastorale Famiglia e Vita, in collaborazione con il Comune di Agropoli. Per ogni bambino è fondamentale il bisogno di appartenere ad una famiglia che sia in grado di prendersi cura di lui in maniera adeguata. Può accadere però che la famiglia naturale attraversi momenti di difficoltà che da sola non riesce a fronteggiare, creando situazioni di disagio o rischio per i figli, venendo a mancare l'ambiente familiare necessario per il loro sano sviluppo. In questi casi l'affidamento familiare, anche per poche ore quotidiane o a tempo determinato, può rappresentare un valido supporto, garantendo aiuto e sostegno nel processo di sviluppo del minore. Questo è il programma dell'incontro. Si aprirà con i saluti del sindaco Adamo Coppola, introdurrà Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, vescovo di Alla Diocesi di Vallo della Lucania, la dottoressa Maria Giovanna D'Arienzo, assessore alle politiche sociali del Comune di Agropoli, interverrà la dottoressa Chiara Di Sessa, psicologa del piano di zona S8, sulle diverse tipologie di affido e situazioni nell'ambito S8 del nostro territorio. La dottoressa Fulvia Galardo, responsabile dell'ufficio di piano di zona S7, parlerà invece dell'attuale situazione degli affidamenti nell'ambito S7 del nostro territorio. La relazione finale sarà affidata al professor Marco Giordano, presidente del forum Famiglie Campane, docente del corso di laurea in servizio sociale Università Federico II di Napoli, presidente del progetto Famiglia. Parlerà dell'affido familiare Servizio alla Vita. Seguiranno poi delle testimonianze a coordinare i lavori l'avvocato Vito Rizzo, giornalista UCSI. L'evento è accreditato all'ordine degli avvocati di Vallo della Lucania nell'ambito della formazione continua.